Buon pomeriggio, questo lo faccio riallacciandomi a una cosa successa, a due cose che sono successe ultimamente, per dimostrarvi quanto lo Stato italiano è separato dalla gente comune. Allora, ne ho accennato il caso di quel povero anziano a cui una persona è entrata in casa, le ha occupato la casa per 21 giorni e ora questa persona non può ancora rientrare perché la casa è sotto i sigilli perché ci devono fare le indagini. Va bene, la normativa è quella, mentre l'occupante, la signorina occupante andrà in carico dei servizi sociali di Roma che gli cercheranno un alloggio. La procedura è quella ragazzi, non è che la tiro sui pennelli, la procedura è quella. Quindi se gli va di sfiga la metto in una casa famiglia, se gli va di culo gli trova un alloggio saltando la fila, cioè con la deroga, la deroga alla concessione. Io ho detto che per me la soluzione è che chi fa queste cose, l'unico alloggio che può trovare o sono o sotto un ponte o fuori dai coglioni, perché non gli do niente. Non gli do niente perché tu non ti sei fatta il mazzo come tutti quelli che aspettano magari anni di avere un alloggio popolare. Tu hai fatto la furba. Hai danneggiato gravemente una persona perché non è solo un danno fisico, cioè non è solo il danno materno, ma anche il danno psicologico. Provate poi a vivere voi con la paura che qualcun altro faccia la stessa cosa. E quest'uomo deve aspettare ancora per poter rientrare nella sua casa, anche questa signora ha devastato e i danni che ha prodotto non verranno mai risarciti, perché questa le pezze non verrà mai risarcito quest'uomo e neanche i danni psicologici. Per me l'unico alloggio giusto per questa stessa qui è il gabbio. Due metri per due stai lì dentro e non rompi i coglioni. Invece di trovargli una casa, un alloggio così, intanto che la giustizia italiana lo togli a mente, veloce come un bradico addormentato, faccia il suo corso. Qui, adesso la Lega si è svegliata per cavalcare la cosa. Viva bene, ma svegliarsi prima? No, perché quando il Ruspero al governo avrebbe avuto i mezzi per fare qualcosa, no? Era ministro all'interno. Cioè, bastava emettere una norma per cui chi occupa abusivamente una casa di proprietà di qualcun altro, e riferisco alle case popolari, va sgombrato entro 48 ore, a costo di buttare giù la porta. Non mi sembrava una norma così complicata. Mi ha detto, a me non frega, se questo avesse occupato un appartamento vuoto non me ne fregherebbe niente. Non me ne fregherebbe niente. Come non mi frega se qualcuno occupa uno stabile abbandonato? Questo non mi interessa. Ma quando tu occupi la casa di qualcuno, è perché questa persona la vuoi derubare. Non solo dei suoi affetti, dei suoi ricordi, dei suoi beni. La vuoi derubare delle utenze, perché tu stai in una casa e intanto le bollette le paga lui. Tanto per dire. E provate a chiamare il gestore e dire, fate una sospensione. Ecco, cacchio che lo fanno. Quindi, non prendiamoci in giro. Questo non è. Questo è sciacallaggio e basta. E va punito severamente. Sempre per il principio che da noi vige molto forte, punisci ne uno e per educarne cento. Ecco, qui ne puniamo un migliaio. Vediamo se la imparano sta lezione. L'altro caso, e qui mi tocca direttamente, è il ragazzo che ha eliminato l'orco che aveva in casa, che per una questione prettamente anagrafica era suo padre, e il PM ha chiesto per lui 14 anni. Non contento di chiederli. Lo dice proprio nella cosa. Sono costretto. Ecco, anche qui. Per questo ragazzo non si possono applicare attenuanti relative ai casi. Anzi, io dal punto di vista legale chiedete all'avvocato. Non so se affronterà l'argomento. Spero di sì. Ma io cerco di capire perché uno Stato, anche in questo caso, dorma. Ho letto quello che ho potuto vedere di questa, della richiesta del pubblico ministero. Io lo dico per esperienza. Quando ne hai uno così in casa, quando hai una persona così in casa, non è, il discorso non è beccare il giorno in cui sclera. Tu ci vivi tutti i giorni così. Noi vivevamo nella paura tutti i giorni che succedesse. Fino a che mamma ha preso, dopo l'ultima, ha preso, andiamo via. Ha chiesto, ha rabbinato il Geth. I rabbini gli hanno mandato qualcuno a convincerlo. Se no, o firmava il Geth o finiva con i denti in mano. Se no, sei raffortunato. Beh, a parte quello. Però i segni che ti lascia dentro non te li cancelli più. Voi pensate che io, l'avete detto Stefano, mi diceva, ma io non sono così buono come sembro. Quando mi arrabbio, veramente divento cattivo. Fortunatamente mi arrabbio poco. Fortunatamente nessuno di noi si arrabbia. Spesso perché abbiamo visto che ci sono cose per cui non vale mai la pena arrabbiarsi. Ma quando troviamo cose orrende ci arrabbiamo sul serio. Ma questi segni te li porterai sempre dentro. Cioè quel ragazzo lì, non è detto che in quel momento ci fosse un vero pericolo, ma ci ha vissuto tutto il tempo, tutti gli anni, tutti i mesi in quel pericolo, in quella tensione, in quello stato d'animo. E arriva un momento in cui la corda si spezza. Io non valuto ciò che ha fatto in quel momento. Io valuto la sua vita. Cioè il vivere costantemente con quella paura. Non è vivere così. E i segni che ti lasci dentro sono cicatrici che nessuno può curare. Ecco, uno stato che si prende cura dei cittadini, a queste cose dovrebbe pensare. Non ci deve essere sempre il caso eclatante di cui si parlerà per un po' e poi finirà tranquillamente in un cassetto. Perché è quello che succederà. Non fa comodo ai politici, non fa comodo ai soldi. Bisogna proprio aspettare la disgrazia, poi. Cioè, non è possibile che i servizi sociali, i comuni, non si siano mai attivati per allontanare quella famiglia da questo orco. abbiano dormito tranquillamente. Per cui io sto totalmente dalla parte di quel ragazzo. Che secondo me non dovrebbe neanche essere processato. Perché il dolore che si porta dentro, uno per quello che ha fatto, uno per quello che ha subito, è già una condanna tremenda e ingiusta. Perché i bambini non andrebbero mai a vedere i genitori che litigano. Mai. Mai. E quando non è solo una lite, il danno è verticale. Io non posso dimenticare le parole, mio fratello, quando andammo a trovare quello là, perché il titolo non se lo merita, e gli disse sei fortunato che ti elimina, ho usato un'altra parola, il, la C-word, se no ti eliminavo io. E mio fratello era perfettamente calmo, tranquillo, che per noi, mio fratello il genietto, quando è così, vuol dire che dentro ha un fuoco che ha il confronto, il sole, è una palla di ghiaccio. Talmente era furioso. E quelle cicatrici non te le togli più. Non c'è scappatoia, non te le toglierai mai più. Non ci sono psicologi, non ci sono psichiatri. L'unica cosa che puoi mettere, ti possono insegnare a sigillare una parte di te, ma il dolore che rimane esce sempre. Ciao a tutti ragazzi.